Bruno editore presenta il diario alimentare uno strumento semplice ed efficace per raggiungere il tuo peso forma rapidamente e senza rinunce di micaela scigliano Introduzione La prima domanda che mi pongo ogni volta che inizio un nuovo corso è sempre la stessa Avrò fatto la scelta giusta? Avrò speso bene i miei soldi? Immagino che anche tu ti stia chiedendo se questo corso fa per te, se funzionerà anche su di te Quindi evitiamo i preamboli e veniamo subito al sodo Ciò che ti rivelerò in queste pagine si basa esclusivamente su dati scientifici Non ci sono teorie strampalate o esercizi impossibili Questo corso funziona per tutti, funziona sempre, senza eccezioni Ti accompagnerò innanzitutto alla scoperta dei meccanismi mentali che ti impediscono di raggiungere il tuo peso forma Insieme vedremo quali prigioni costruisce la tua mente in modo da imparare a liberarsene Si tratta di una sezione essenziale in cui ti riconoscerai certamente Ti ritroverai a domandarti come hai potuto non accorgerti prima di quali trappole ti tendevi da solo Nei capitoli successivi imparerai a utilizzare efficacemente la tecnica del diario alimentare in moltissime varianti Si tratta di uno strumento semplice, intuitivo e di facilissima applicazione Che dà risultati concreti e rapidi e che ho ideato e sperimentato con successo insieme ai miei pazienti Grazie a questo corso ti renderai conto che non serve frustrarsi Non serve fare appugni tutti i giorni con se stessi Non è necessario collezionare rinunce e surrinunce Riuscirai anche tu a uscire dalla schiera di quelli che fanno eccezione alla regola Garantito! Garantito!